Joshua Wong è stato condannato a 10 mesi di reclusione per la partecipazione alla veglia del 4 giugno 2020, in ricordo delle vittime della repressione di piazza Tiananmen. Wong, 24 anni, tra i 47 attivisti accusati in base alla legge sulla sicurezza nazionale voluta da Pechino, è stato condannato a 15 mesi, beneficiando di una riduzione della pena a 10 mesi grazie alla sua dichiarazione di colpevolezza del 30 aprile. Il giovane attivista sta già scontando la pena di 13,5 mesi per un'altra manifestazione non autorizzata relativa alle proteste di massa del 2019. Nel 2020, per la prima volta dal 1990, la veglia sui fatti tragici di piazza Tiananmen fu vietata con la polizia che motivò la decisione con le restrizioni per la pandemia del Covid-19, così come formalmente accaduto per tutte le altre manifestazioni dello scorso anno e come accadrà per quello in corso. Mentre era in prigione, Wong è stato raggiunto da un nuovo ordine di custodia a gennaio, con addebiti sulla nuova legge sulla sicurezza nazionale per la partecipazione alle primarie nel campo democratico per definire i candidati al voto di settembre 2020, rinviato al 2021 e poi un'altra volta. Le accuse, in questo caso, sono di complotto vizioso per rovesciare il governo dell'ex-colonia. volo. … … Grazie.